Buongiorno a tutti, allora secondo solo stacchiamo bene 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 stavo dicendo buongiorno a tutti giubbino come sempre Sergio Tacchini da benzinaio perché dopo aver rifatto le qualifiche della MotoGP giustamente il gigione non si ferma mai qualifiche del gran premio del Bahrain formula 1 perché inizia anche la formula 1 primo gran premio di stagione tutto nuovo tutte le macchine particolari hanno anche il salva ruota addirittura c'è il parafanghino davanti su c'è la gomma col parafango c'è come una specie di parafango che copre anche la gomma sopra probabilmente per evitare che la macchina dietro prenda la gomma e facciano certi voli che metà basta anche magari per salvarla da detriti o che cosa che magari parte qualche sassolino prende la gomma e ciao si buca c'è anche la camera car sul casco che fa vedere le immagini tutto tutto una roba di bidine comunque andiamo a vedere come è andato il cuno perché a sette minuti e trenta dalla fine del cuno doppietta ferrari signori con le clerk davanti a science ma siamo ma nei primi posti c'è anche la asse l'alfa romeo signori la asse l'alfa romeo con magnus e bottas una roba clamorosa l'anno scorso asse alfa romeo erano sempre lì tra al sedicesimo e ventesimo posto a giocarsi l'ultimo posto con la williams pronti via un bottas e un magnus anche non ti aspetti comunque a rischio attenzione a rischio esclusione sempre a sette minuti e mezzo dalla fine abbiamo ricciardo sedicesimo sunoda diciassettesimo latifi diciottesimo e poi le due mercedes che se ne sono presa comoda mentre stavo scrivendo siamo a sette minuti erano in pista per fare il primo giro poi a rischio perché sbagli sbagli qualcosa e rischi di non fare neanche il q2 primo giro per le due mercedes ma clamoroso signori emington è solo quinto dietro a bottas con l'alfa romeo e rasali invece ottavo per il q2 basta e avanza perché passano i primi 15 però signori miei è un segnale è un segnale di una mercedes che non è ancora ammazza campionato o comunque lì a giocarsi la pole position con le altre diciamo che è diventata la ferrari ecco per intenderci mentre invece ferrari e red bull sembrano essere le due candidate a giocarsi per ora è per ora perché la mercedes attenzione alla mercedes che poi nel q3 ti piazza il colpo della tigre alla fine confermate nelle due prime posizioni le due ferrari che per quello che può servire nel q1 in sordina come dicevamo le due mercedes col rassel addirittura al nono posto davanti ad emilton decimo signori è vero che alcuno che quindi conta qualificarsi uno non sta neanche lì a sprecarsi faccio il tempo quanto basta qb come si suol dire qb quando fai prepari da mangiare no questo questa cosa qui qb quanto basta da segnalare molto bene botta squarto con la alfa romeo e magnus è in quinto con la as fidanken mentre il buon bestafen sorgnione come un gattone è in terza posizione lì che controlla veglia osserva anche lui pronta a dare la zompata del campione del mondo tra l'altro esclusi ahimè dal q2 sunoda sedicesimo ulkem ulkenberg diciassettesimo ricciardo diciottesimo stroll diciannovesimo e latifi ventesimo quindi alfa tauri le due al no le due alpine l'alpine la mclaren e la williams dovrebbe essere così inizia signori miei il q2 e a sette minuti e trenta dalla fine del q2 c'è un po' di cambiamento totale globale rispetto al q1 perché abbiamo a comando la red bull di verstappen davanti all'eclerc e perez quarto un grandissimo magnusen con la as che quindi si conferma questo magnusen che non ti aspetti che torna in formula 1 con la as e fa di molto ma di molto bene bisognerà vedere l'affreddabilità della macchina ma per ora signori miei siamo andando oltre ma oltre e ancora oltre le più rose previsioni per un as che l'anno scorso era un pianto greco era un pianto era perennemente all'ultimo penultimo posto nelle qualifiche pochissimi punti per non dire zero e quest'anno sta facendo libidine a sempre sette minuti e mezzo dalla fine del q2 questi sono i piloti esclusi dal q3 mic schumacher undicesimo comunque tanta roba è signori miei tanta roba con la williams essere undicesimo è tanta roba l'anno scorso un undicesimo posto facevano i salti alti un metro norris è dodicesimo gasli è tredicesimo zu al al debutto in formula 1 è quattordicesimo e questo cinesino qua diciamo che sta facendo benino è niente di eccezionale ma neanche malaccio e albon che anche lui tornava in formula 1 è quindicesimo al termine del q2 bestaffen è davanti alle due ferrari quindi il compagno perez e poi emilton e un magnusen con la ass al sesto posto davanti a rassen quindi per ora per ora signori miei c'è questa sorpresa magnusen e poi per il resto è lotta red bull ferrari con una mercedes che è sceso nel ruolo della ferrari l'anno scorso più o meno è ferrari l'anno scorso era la terza incomoda con le altre mclaren and company quest'anno sembra che le le cose si siano invertite forse forse mai presto il primo gran premio potrebbe esserci una sfida tutta rossa contro i rossi contro i neri con attenzione alla mercedes che signori miei la mercedes è lì è lì ma non sembra leggermente in difficoltà leggermente comunque non è dodicesimo quindicesimo quinta sesta settima è lì i piloti ehmè esclusi dal q3 sono con undicesimo mick schumacher dodicesimo norris tredicesimo albon quattordicesimo e zu quindicesimo perché gasli con l'ultimo giro da libidine ha spedito o con fuori dal q3 prendendosi la nonna posizione gasli con la sua bella alfa tauri gasli sta facendo quello che botta sta facendo in alfa romeo rendetevi conto botta sembra un pilota rinato in alfa romeo sta facendo molto molto bene nelle possibilità della macchina naturalmente no e gasli nell'alfa tauri sta facendo quello che non gli riusciva a fare in red bull cioè fare molto bene sempre contenendo conto del valore dell'alfa tauri che non possiamo pretendere sia a livello delle prime tre scuderie cioè red bull alfa romeo e ferrari e mercedes o mercedes red bull ferrari come preferite però il buon gasli si inserisce quasi sempre nella q3 fa delle buone gare va spesso a punti per non dire sempre a volte riesce a prendere anche la gara giusta e vincere cosa che invece il red bull forse per la pressione forse per per altri motivi nonostante una macchina da libidine non gli riusciva in alfa tauri ha trovato la sua dimensione per intenderci comunque ecco i magnifici dieci che si giocheranno la pole position de staffen science col secondo posto a 30 millesimi da ver staffen leclerc è terzo ma è vicinissimo anche lui quindi perez quindi vedete red bull ferrari ferrari red bull poi mercedes mercedes le due mercedes quinta e sesta magnus e nel settimo all'once ottavo gasli e nono e bottas è riuscito con l'alfa romeo a inserirsi anche lui in q3 andiamo a vedere come è andato il q3 perché a sette minuti dalla fine del q3 e per il momento è doppietta ferrari con science davanti alle clerk quindi bestaffen poi perez hamilton e ma e rassel quindi praticamente più o meno ferrari ferrari red bull red bull mercedes mercedes si sono invertite le cose ma il risultato non cambia sono sempre quelle tre lì con la differenza che la ferrari la red bull si sono poste per il momento davanti alle due mercedes ma non di molto non è che c'è una differenza prima magari le ferrari erano lì che arrancavano cercando di stagli vicino dovendo andare al 110 per cento per stare vicino alle altre che magari andavano al 90 per cento che erano la red bull e la mercedes mentre adesso a parità diciamo col 100 per cento di tutte e tre è sfida ferrari red bull con leggermente distanziata per ora per ora è perché poi vedremo in gara la mercedes e invece alla fine signori miei confermata la pole position rossa ma si invertono i piloti perché è leclerc con l'ultimo giro da doppia libidine con i fiocchi che si può prendere la pole position ma per millesimi perché erano lì 44 il 66 millesimi qualcosa di simile secondo e terzo perché è pole position charles clare davanti a verstaffen di 44 millesimi ed a science di una ventina di millesimi in più di verstaffen più o meno poi perez è quarto ed emilton è quinto signori emilton partirà in terza fila nel gran premio di oggi alle ore 16 poi via via tutti gli altri ma adesso andiamo alla griglia di partenza perché questa che volete sapere griglia di partenza del primo gran premio di formula 1 2022 gran premio del baren o baren che dir si voglia prima fila leclerc verstaffen seconda fila science peretz quindi è sfida ferrari red bull alle loro spalle signori miei al terzo posto clamorosamente c'è emilton e io avevo messo non ho messo nessuno c'è signori pensate incredibile ma vero a fianco ad emilton c'è chi non ti aspetti il cameriere di fianco ad emilton c'è il suo ex cameriere in mercedes bottas con l'alfa romeo bottas e sesto con l'alfa romeo di fianco al suo compagno di squadra e credo che alle quattro non penso farà il cameriere in quarta fila signori miei abbiamo un magno sencollas che staranno facendo i salti modello canguro a fianco ad alonso quindi in quinta fila russell e gasli solo nono russell alla prima però magari ha sentito la pressione del di essere pilota effettivo in mercedes e non come il gran premio che fece in prestito diciamo in prova qualche due anni fa o forse l'anno no due anni fa due anni fa quando guidò per una volta la mercedes fecero uno scambio con bottas ed ebbe quasi l'occasione di vincere appunto in bahrain forse forse non lo so proseguiamo comunque in sesta fila abbiamo con nick schumacher signori nick schumacher in sesta fila che l'anno scorso partiva sempre in ultima fila si giocava al posto con mazepin parte in sesta fila quindi miglioramento anche per la williams al settima in settima fila norris ed album in ottava fila zu che è al debutto e di fianco a sunoda quindi abbiamo un cinese un giapponese che si sfideranno in donna fila ulkenberg e ricciardo ricciardo clamorosamente ma tra l'altro in presentazione avevo detto attenzione a ricciardo con queste macchine in cui devi attrenare un attimino prima lui che è il re della frenata all'ultimo momento forse si troverà si dovrà un attimino abituare e ahimè in ultima fila abbiamo stroll e latifi latifi che purtroppo per il momento non migliora le le sue prestazioni rispetto all'anno scorso è sempre lì in ultima posizione mentre gli altri sembrano aver migliorato però in ogni caso clamoroso bottas con l'alfa romeo in terza fila e magnus en colas in quarta è tanta tanta roba signori miei poi la gara è un'altra cosa la pole è una cosa la qualifica una cosa la gara è un'altra lì c'entra la prestazione prestazionalità della macchina l'affidabilità della macchina la capacità di fare i cambi al momento giusto sfruttare le sefiticare eccetera eccetera e lì può succedere veramente di tutto in più mi sembra ad occhio che non ci sia un strafavorito chiaro limpido lapalissiano come gli anni passati è un tutti contro tutti in cui tutti scusate la ripetizione possono vincere almeno delle prime tre scuderie e in cui il caso la furbizia saper sfruttare il momento eccetera eccetera può fare veramente la differenza vedremo vedremo io mi sono dilungato troppo chiedo venia ma era primo gran premio anche dilungarsi un attimo poi con tutte queste sorprese da libidine che non ti aspetti vedermi la una così avanti godo come un riccio perché mi piace mi gusta non vedere sempre emilton verstaffen verstaffen emilton emilton verstaffen verstaffen emilton e poi dietro tutti gli altri più o meno sempre gli stessi se c'è un bel rimescolamento con un tutti contro tutti con tutte le dieci scuderie che possono andare a punti e non solo le solite note c'è più anche più più divertimento eccetera eccetera penso che valga per tutti e non sapere già no vabbè allora le prime sei sono tu 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 poi in settima ottava posizione ci mettiamo le melclaro le alfa taurie o le racing point e poi dopo arriveranno le altre che fanno ridere che erano sempre alfa romeo williams e ass invece stavolta ass e alfa romeo potrebbero entrare in zona punti anche magari in punti interessanti e in posizioni interessanti che non ti aspetti vedremo vedremo cosa succederà ci vediamo alla prossima ciao ciao